Milano sempre più violenta tra rapine a mano armata e maxirisse che rendono la quotidianità dei cittadini invivibile. Gli ultimi arrestati da parte dei carabinieri sono tre uomini di cui uno minorenne che mettevano a segno colpi spettacolari. La banda di giovani a mano armata rapinavano hotel, supermercati, negozi e cittadini tra Milano, Como, Lecco, Varese e Monza. I malviventi scappavano con auto rubate a cui davano fuoco dopo la fuga. A loro vengono attribuiti cinque episodi di ricettazioni di auto, tutte successivamente incendiate, un furto aggravato di auto e 14 rapine, tutte aggravate dall'uso delle armi messe in atto tra gennaio e marzo del 2022 che hanno fruttato ai malviventi oltre 50.000 euro. L'indagine è iniziata a seguito della rapina registrata l'8 gennaio 2022 in un hotel di Pero. Tre uomini armati di pistola si erano impossessati di una somma di denaro contante contenuta nella cassa e di due casseforti. I rapinatori avevano anche rubato denaro a due clienti che in quel momento stavano effettuando il check-in. Dopo aver rubato circa 2.900 euro, i tre erano riusciti a fuggire a bordo di un'auto rubata, poi data alle fiamme dagli stessi malfattori. Gli arrestati maggiorenni sono stati condotti a San Vittore, mentre il minore è stato accompagnato presso una comunità. E sono stati denunciati anche un 24enne, un ventenne marocchini e una 19enne italiana che hanno preso parte a una maxirissa nella notte fra domenica 23 e lunedì 24 luglio su Inaviglia, Milano. Alcuni residenti della zona, dopo aver chiamato le forze dell'ordine, hanno ripreso il pestaggio con lo smartphone. Le immagini mostrano calci e pugni sferrati con molta violenza. A causa delle lesioni riportate, due ragazzi sono anche finiti in ospedale al Fatebene Fratelli, ma non sono in gravi condizioni.